Il reporto su per l'accidente del MH17 va essere pubblicato in Gliadies Veniente. Io volevo memorare a voi alcune cose che se va dici in Gliadies immediatamente successivi alla tragedia e che io dimentico che siete un po' obbligati. Io volevo mostrarvi un video. Questi video sono pubblicati il 20 giugno 3D esposto alle tragedie e ho un video di John Kerry che dice una cosa molto interessante. Il dice che il ha immagini satellitare che mostra il lanciamento del missile e la tragectoria. Oltre a questo, il ha altri reporti. Isto è Reuters. Il sabato 19 di giulio. Isto è molto interessante. On dice che il ha immagini satellitare che mostra un pluma di fumo lasciate del missile terra-aere che abbatteva il volo MH17. Io non trovava qual è la fonte di questa rivelazione. On dice che le ufficiali diceva che le dati satellitare mostrava un'immagini con le pluma di fumo lasciate del missile. E che isto permette di calcolare le aree del quale le missile esteva lanciate. Un simile reporto veniva da The Guardian. Domenica 20 giulio. On parla di plure evidenzias e lo che nos interessa este. L'immagine satellitare mostra un pluma di fumo lasciate di un missile terra-aere. On menziona Samantha Power e il discorso che ella faceva al Consiglio di Sicurità delle Nazioni Unite. Io lo ha riguardate, ma io non trovava menzioni di questa affermazione, di questa pluma di fumo. Se vuoi sapere di informazioni su qual è l'origine di questa nuova, per favore dicemelo. Io sarò molto curioso. Ancora? L'uffiziale dell'intelligenza del Stato Unito d'America confirma che Illes ha nulla dubita su per lo che è veniva. Io spero che finalmente non vedremo queste evidenzias satellitare nell'aeroporto degli investigatori. Ma, francamente, io non sono molto optimista.